Alessio? Ehi Alessio! Alessio, ci sei? Ascolta Alessio, hai già deciso dove andrai in vacanza? Oh sì, stavo pensando di andare in vacanza nel Mar Morto, oppure nella Valle della Morte, ma con ogni probabilità resterò sulla tua spolverosa credenza! Non essere così negativo Alessio, pensa ai tuoi colleghi teschi che una credenza non ce l'hanno e devono condividere cripte umide e fatiscenti con tibie e peroni disconosciuti! Sì, ammetto che questa volta è vero, ma ho anche conosciuto un osso sacro particolarmente libidinoso e un malleolo molto simpatico, ed è comunque meglio che stare sulla tua credenza a sentirti tutto il giorno ciondolare e dire cose inutili! Dai, dai, non ti preoccupare, questa sera ti porto a fare un giro, e sai dove andiamo? sul canale Viola del Fantasma del Web per la nostra serata dedicata alle letture del merda! E tu potrai raccontare un sacco di bellissime fiabe trucide! Ragazzi, vi aspettiamo alle 22 sul canale Viola del Fantasma del Web! Ciao!